Buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News 24 in forma. Vediamo insieme il nostro sommario. Reggio Calabria ha catturato il latitante Domenico Romeo. A Catanzaro visita di Zingaretti dopo la sconfitta. Celebrata a Cosenza la giornata mondiale contro il cancro, successo a Morano Calabro per lo spettacolo dell'attrice comica Maria Bolignano. Apriamo dunque con la cronaca. Carabinieri e finanzieri hanno arrestato il latitante Domenico Romeo di 40 anni, ricercato da luglio scorso dopo essere sfuggito alla cattura nell'operazione Bonvento Genovese, condotta dalla Guardia di Finanza del capologo Ligure e coordinata dalla DDA Genovese. Domenico Romeo ricercato dallo scorso mese di luglio è stato arrestato in un'operazione congiunta tra carabinieri e guardie di finanza. L'uomo è stato individuato in un'abitazione di Santa Eofemia da Spromonte dove si nascondeva. Dopo aver cinturato l'intera area i militari hanno fatto scattare il blitz sorprendendolo dove è stato trovato anche in compagnia della moglie e del figlio minorenne di altri familiari. L'uomo all'apertura della porta vistosi ormai alle strette non ha posto alcuna resistenza comprendendo che oramai la propria latitanza era terminata. Domenico Romeo con alle spalle diversi precedenti per traffico di stupefacenti è risultato al centro di un ingente traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Colombia gestito da esponenti del clan d'Indrangheta degli Alvaro di Sinopoli in provincia di Reggio Calabria al quale risulta affiliato anche l'ormai ex latitante che, secondo quanto emerso nel corso delle indagini della Guardia di Finanza di Genova, contrattavano direttamente l'acquisto di carichi di stupefacenti con esponenti dei cartelli del narcotraffico sudamericano. Nel corso delle indagini delle fiamme gialle, svolte in cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità spagnole, francesi, colombiane e statunitensi, furono sequestrati nel porto di Genova 368 kg di cocaina purissima corrispondenti ad un valore di circa 100 milioni di euro. Il suo arresto è stato possibile grazie alla cooperazione tra diversi reparti dell'arma dei carabiniere della Guardia di Finanza che hanno collaborato sinergicamente nelle attività volte alle ricerche e alla cattura dell'attitante, che confidando nell'appoggio della cosca Alvaro si era rifugiato proprio nel territorio aspromontano storicamente controllato dalla guerrita cosca dei signori della montagna, dove è stato però scovato grazie alla capillare presenza dell'arma e alla determinante specificità dello squadrone eliportato cacciatori Calabria in grado di operare in difficili contesti come quello aspromontano. A meno di dieci giorni dalla sconfitta elettorale Nicola Zingaretti torna a Catanzaro e lancia un piano per la Calabria. E' tornato in Calabria pochi giorni dal voto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti dopo l'ultima visita in occasione della chiusura della campagna elettorale. Da Catanzaro il leader Tem ha attaccato il centrodestra e i suoi leader che dopo la vittoria non sarebbero tornati in Calabria, ma pur rimarcando il fatto che il PD resta il primo partito in regione, la sua visita post sconfitta serve ad aprire una fase nuova. Il centrodestra viene al sud solo in campagna elettorale a chiedere i voti e poi scappa. Ripeto, io ho difeso questa terra, ho sostenuto la candidatura di Pippo Callipo, sono contento che il Partito Democratico è il primo partito della Calabria e ovviamente mi dispiace che le divisioni in questo campo ci hanno impedito di vincere in Calabria, però io non vengo solo per chiedere voti, vengo per essere vicino a questa terra e per promuovere il riscatto. Questa è la differenza e ora si apre una fase nuova anche in Calabria. Il piano per la Calabria è ricostruzione di una forza politica e di un campo di forze per spingere il nuovo governo che ancora non si è insediato in Calabria a mantenere gli impegni perché non si possono rubare i voti alle persone. Occhi puntati sull'attualità e il riferimento non è relativo solo alla politica calabrese ma anche al coronavirus che a dispetto dei due soli casi finora presenti in Italia sta generando grande preoccupazione. Stamattina ho incontrato le ricercatrici per questo grande successo italiano e dobbiamo ora continuare a vigilare come sta facendo però senza panico o senza allarmismi che cominciano a diventare ridicoli a certo punto. È stata celebrata a Cosenza la giornata mondiale contro il cancro, è stata evidenziata l'importanza della prevenzione, della buona alimentazione e dell'attività fisica. La giornata mondiale contro il cancro è stata celebrata anche a Cosenza attraverso un seminario che ha visto la partecipazione dell'oncologo Gianfranco Filippelli di nutrizionisti e operatori del settore. Stigmatizzare quello che è la lotta contro il cancro non si può certo ridurre a una giornata però a Cosenza come in tutto il mondo ovviamente si celebra questa giornata perché è diventato veramente un problema sociale di estrema rilevanza. I dati epidemiologici purtroppo sono preoccupanti anche se si osserva un certo calo di alcune incidenze, di alcune forme tumorali che sono denominate dei big killer però ovviamente il problema epidemiologico è molto alto. Il tumore della mammella, dell'intestino, del polmone e del pancreas che sta aumentando sempre più, ha proseguito poi Filippelli, pongono delle sfide e delle problematiche che sono sempre più difficili e importanti. A ciò viene incontro il grosso progresso che stiamo avendo nell'ambito dei trattamenti medici contro queste forme tumorali soprattutto per quanto riguarda il tumore della mammella ma anche il melanoma, il polmone, il tumore del colon dove farmaci veramente mirati, target contro alcune mutazioni stanno veramente rivoluzionando un po' quello che è l'approccio contro i tumori. Anche se la parte più importante la fa la prevenzione? Oggi parleremo di alimentazione, di nutrizione che è un discorso veramente di igiene che bisogna avere nella nostra vita, al di là della nutrizione, anche gli stili di vita, il fare movimento fisico, non fumare, tutte queste precauzioni che appunto sono i cardine della prevenzione primaria e poi la diagnosi precoce. Bisogna abituare le persone a sottoporsi in modo asintomatico a controlli diagnostici preventivi, mi riferisco alla mammografia, al pap test, alla colonoscopia, anche se è un esame un po' più invasivo, all'esame del sangue occulto nelle feci, quindi tanti esami che possono aiutarci contro questa terribile malattia. E ora ci spostiamo a Sanremo dove il nostro inviato Natalino Stasi ha intervistato il maestro orafo crotonese Michele Affidato che per il decimo anno consecutivo realizza alcuni premi più importanti per il festival della canzone italiana. Siamo in compagnia del maestro orafo crotonese Michele Affidato. Quest'anno compie dieci anni che arriva a Sanremo in qualità di ideatore e realizzatore anche dei premi speciali di Sanremo, quindi una bella soddisfazione per lei ma anche per la Calabria, no? Sì, sono dieci anni che realizzo i premi speciali per il festival, di questo veramente ne sono onorato. Sono tanti i premi che ho realizzato in tutti questi anni premiando il goto della musica nazionale e internazionale. Quest'anno in particolare abbiamo realizzato i due premi della critica Mia Martini, i premi che vengono giudicati dalla sala stampa in due esemplari che vengono consegnati sia alla sezione campioni che alla sezione nuove proposte. Questo è un premio che viene raffigurato da una scultura dove è stato rappresentato un leone con una chiave di violino. Questo è per simbolizzare sia Sanremo che è rappresentato da leone e la chiave di violino che rappresenta la musica. Cosa vuol dire per essere qui per il decimo anno consecutivo? Che emozione prova? Ma per me è una grande emozione essere la festa della canzone italiana. Questa poi è una vetrina mediatica molto importante e di questo ne sono consapevole. Ecco, quindi in questa vetrina cerco di portare, più che cerco, porto sempre con me la Calabria. Io ricordo dei festival in particolare, due che ho vissuto con Gianni Morandi, dove dicevo Gianni, guarda, quando parli di Michele Affidato dici sempre Calabria. Lui è stato così carino che durante la serata per ben cinque volte, quando menzionava il mio premio, diceva Michele Affidato, ora fu calabrese. E poi quest'anno in particolare mi fa veramente piacere che all'attenzione nazionale, proprio il Corriere della Sera, ieri ha dato questa grande pagina, che i premi a Sanremo brillano di Calabria. Per cui ecco, questo è veramente un grande piacere, un grande onore poter portare a Sanremo non solo quello che è la mia arte, ma anche la mia Calabria. Grande successo per lo spettacolo di Maria Bolignano, la comica partenopea, che direttamente da Made in Sud ha divertito il pubblico del Pollino con Femminile Singolare nell'ambito della rassegna teatro-musica di Morano Calabro. Uno scontro tutto da ridere, quello tra una donna d'altri tempi, anti-whatsapp ed una milf moderna, tutta Instagram e Tinder. Si chiama Femminile Singolare, dello spettacolo della vulcanica Maria Bolignano, che direttamente da Made in Sud ha infiammato l'auditorium troisi di Morano contestualmente alla stagione teatrale 2020. La racconta è dei due personaggi principali di Made, in particolar modo, che raccontano la nostra società però vista da quattro paio di occhi diversi. Quello di Romilda, che è questa donna attempata che vuole che ritornino ai vecchi tempi perché sono tutti scostumati, maleducati, servi della club e quindi li prende a borgia e tolgo, con questo pozzappesco che non si capisce niente. che quindi vorrebbe che si ritornasse alle relazioni di una volta. E dall'altra abbiamo la milf, che è questa mamma di una ragazza che vede però i rapporti invertiti, cioè la mamma che si dice a Napoli ha fatto prima vicchiaie e poi a giovontù, quindi vorrebbe tornare giovane, ma ovviamente non può paragonarsi alla figlia di 19 anni e quindi la figlia fa la mamma e la mamma fa la figlia. È una situazione un po'... Entrambi i personaggi, devo dirlo, per entrambi i personaggi ho preso ispirazione da persone che realmente esistono, quindi c'è sempre una base di verità. Uno show esilarante e dinamico che anticipa in grande stile è un'altra data importante per la rassegna teatro-musica, ovvero il 23 febbraio, con lo spettacolo Mi piace di più di Econ Gabriele Cirilli. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie per essere stati con noi. Grazie per aver guardato il video.